Nella giornata mondiale della terra si piantano alberi all'Alfano Quasimodo con i ragazzi che si sono impegnati anche e soprattutto ad averne cura, un altro segno della sempre crescente attenzione che la scuola rivolge verso i temi dell'ambiente. Anche perché con l'agenda 2030 noi abbiamo preparato un percorso didattico già da qualche anno, quest'anno l'iniziativa di Moto Perpetuo ci ha dato il là anche per abbellire il nostro spazio esterno che vuole diventare uno spazio alternativo all'Aula. Quindi sì, da sempre noi abbiamo sempre avuto l'attenzione al rispetto dell'ambiente interno ed esterno. Anche ad esempio le iniziative che abbiamo fatto quest'anno con il percorso delle acque, insomma noi nella nostra didattica ci teniamo a questo tipo di progettazione. Si trasmettono principi sani ai bambini? Assolutamente sì, il lavoro non viene poi considerato come tale ma un divertimento. Oggi ci divertiremo per la giornata della terra. E poi si piantano insomma essenze che sono proprio nostre, no? Assolutamente sì, sono piante autoctone e sono piante che comunque hanno un valore anche territoriale come il carrubo, come il corbezzolo, melograno e sorbo comune. Non è subito evidente il rapporto che esiste fra piantare alberi e l'attività di Moto Perpetuo, un'associazione che si occupa di persone con malattie neurodegenerative, eppure un nesso c'è. Io direi più di un nesso, poi noi siamo un po' dei sognatori. Ci piace pensare che quelli che sono i giorni di oggi potranno essere crescendo utili per noi che siamo gli anziani. E' un domani che a loro volta saranno anziani, potranno trasmettere una forma di trasmissione di testimone, la sensibilità e la cultura verso l'ambiente che troppo spesso non viene considerato nella sua giusta dimensione.